In uscita restano presidiati dalle forze dell'ordine, mentre all'ospedale di Padova si predispongono tende all'esterno della struttura. In diretta ci riferisce tutto Giuseppina Testoni. Eccoci, buongiorno da Padova. Come dicevate, questa mattina i casi di coronavirus positivi sono saliti a 38. L'ultimo, un anziano che è stato ricoverato in trappia intensiva qui all'ospedale di Padova, da dove ieri sono state allestite tre tende della protezione civile. Una davanti al pronto soccorso, due vicino al reparto di malattie infettive, dove ci sono vari ricoverati contagiati dal virus. Cinque in tutto sono quelli che si trovano in terapia intensiva. Queste tende, ha sottolineato il governatore della regione Zaia, dovranno servire come polmoni di sfogo. Verranno utilizzate in caso di emergenza e di intasamento dei pronto soccorso, cosa che al momento non sta avvenendo. La situazione è qui, è molto tranquilla. Poi ricordavate voi, Euganeo, che l'epicentro del focolaio qui in Veneto, i varchi, sono chiusi. Per almeno 15 giorni non si entra e non si esce dal paese. Si stanno effettuando in queste ore i tamponi su tutta la popolazione, 3.500 persone. Ricordiamo che da questo paese proveniva la prima vittima del virus. Dunque controlli ancora in corso possono passare ai varchi, soltanto i mezzi di soccorso e quelli che trasportano beni di prima necessità. Per ora questi gli aggiornamenti da Padova. A voi.